Claudius, Silver, Lavatesta Barber. Il Lavatesta Claudius risulta essere una scelta eccellente per un salone barber che cerca qualcosa di unico e di alta qualità, la combinazione di comfort, comodità di lavoro e design elegante può certamente contribuire a creare un'esperienza positiva per per la vostra clientela, la cura nei dettagli, come il rivestimento dalla trama originale e l'utilizzo di ecopelle di alta qualità. Conferiscono a Lavatesta una sensazione di lusso e raffinatezza, inoltre, la resistenza all'abrasione e la facilità di manutenzione della ecopelle sono caratteristiche pratiche che possono migliorare la durabilità del prodotto nel tempo, l'adattabilità agli interni vecchio stile è un altro punto forte, rendendo il Lavatesta Claudius una scelta versatile per vari tipi di ambienti di saloni barber, nel complesso, il Lavatesta Claudius offre un pattetto completo di estetica, comfort e durabilità per migliorare l'esperienza del cliente e facilitare il lavoro del personale del salone. Grazie